Mamme, lei è la mia amica Tiziana e noi andiamo a ballare. Va bene, amore, divertiti. Ma sei pazza? Non lo sai che la fanno entrare le donne gratis? E me non è pure. No! Quelli lo sai che fanno? Vedono che ci stanno tante donne e vogliono entrare, ma gli uomini pagano. E lo sai pure che fanno questi uomini con quelle donne? Che fanno? Gli offrono un sacco di drink e le fanno ubriacare. Ma che dici? Dove sta questo luogo?